Giovanni Battista Giovanni Battista ha un grande ascendente sulla popolazione. Quanto è grande il suo seguito? Giovanni Battista Ogni giorno di più. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente. Questo rito diventa la sua identità. Giovanni, il battezzatore. Erode, tetrarca di Giudea, risponderà davanti a Dio della sua condotta. Perché non la smetti di volare contro di me? Io potrei lasciarti libero. Non posso. Nessuna pietà per un uomo talmente vile da dividere retta con la donna di suo fratello. Nessuna pietà! Voglio la testa di Giovanni Battista.